Covid-19 ha rappresentato una straordinaria accelerazione che va nella direzione della trasformazione digitale. Una trasformazione che può migliorare la qualità della vita delle persone, i processi di mobilità e conseguentemente tradursi non soltanto in aspetti di benessere sociale ma anche l'incremento del prodotto interno del mondo. L'unica cosa che abbiamo imparato dalla Covid-19 è che non possiamo accettare che solo siamo arrivati al 30% dei nostri cittadini, dobbiamo arrivare al 100%. New Normal rappresenta un'evoluzione significativa della digitalizzazione dei servizi a disposizione sia del pubblico che del privato. Declinare il concetto di Smart City significa identificare priorità in termini di servizi che permettono di abilitare un processo di crescita da un punto di vista sociale ed economico. Molti effetti di Smart City effetti del passato riguardano grandi tecnologie, ma l'importante è che qui, cosa stiamo cercando di raggiungere? Grazie a tutti! Grazie a tutti!